Cosa aspettarsi su bitcoin? Diciamo che va bene, potrebbe andare meglio Iniziano sempre allo stesso modo Cioè? Racconta Mi preparo per la nobile guerra E in questo video in particolare andiamo ad analizzare le aree da tenere benissimo sotto controllo Questa settimana e la prossima settimana Quindi partiamo subito dal nostro grafico E andiamo a capire subito che diamine sta succedendo su bitcoin Allora, eccoci qua Qua siamo su bitcoin Questa è l'analisi che ho fatto proprio qualche tempo fa La vado a ingrandire su bitcoin Su ciò che mi aspettavo Devo dire che l'area che avevamo disegnato come area di accumulo Effettivamente ha retto alla perfezione Vado a cancellarti momentaneamente questo Lo nascondiamo un attimo così che si veda Ecco qua, come vedi ha toccato perfettamente quell'area È stato il prezzo poi rimbalzato verso l'alto In realtà mi aspettavo un po' di movimento in questa zona qui Prima di una eventuale ripartenza e aggressione di questa trend line In realtà poi c'è stato un rigetto molto veloce dall'area di accumulo Il che è perfetto e ci sta riproiettando adesso verso di nuovo questa trend line Allora, che cosa abbiamo qui? Per chi magari non è esperto del mercato in generale Dei movimenti di mercato Tendenzialmente questo è un downtrend Quindi massimi via via minori E minimi via via minori Giusto per dire massimi via via minori Minimi via via minori Quindi questo era un downtrend Sì, lo so, è anche una bull flag Ma quella è un'altra cosa La bull flag è sostanzialmente una roba di questo tipo E poi si riparte il prezzo Fa un po' così e poi riparte Questo è tendenzialmente il costrutto della bull flag Ma ora noi concentriamoci sul fatto che comunque Anche dentro una bull flag è riconoscibile un trend ribassista A rialzo Stessa cosa Massimi via via crescenti Minimi via via crescenti Ora, cosa è successo? È successo che questa era l'area di rigetto importante che avevamo designato Ed effettivamente l'area che ha rigettato poi bitcoin Quindi siamo tra i 66 e i 68k Avevo detto Quindi questa è la resistenza da abbattere E questa era l'area di rigetto secondo la trend line che abbiamo tracciato C'è stato questo rigetto, è arrivato fino all'area di accumulo che avevamo designato Ora sta tornando su Che cosa ci interessa notare a noi però? Ci interessa notare che questo movimento qui Vado a ingrandirlo Così si capisce meglio Eccolo qua Questo movimento qui, come puoi vedere Ha formato che cosa? Ha formato una crescita massimo via via crescente E minimo via via crescente In particolare in questo movimento è stato rotto quello che era il massimo precedente E in particolare il minimo precedente Perché teoricamente il movimento sarebbe dovuto essere di questo tipo Ma così non è stato Quindi ha retto subito quest'area E questo è estremamente positivo per noi Perché significa che probabilmente bitcoin da questo livello Al netto di notizie particolari Andrà piano piano a ritestare di nuovo quest'area qui Quindi per intenderci tra i 64 e i 66k Quindi questa è l'area che andremo a ritestare Se avrà abbastanza forza da rompere quest'area Rimbalzare e tornare su Si andrà a giocare poi nuovamente su questo livello qui Quindi quello tra i 68 e i 70k Ed è qui che poi ci giochiamo il gioco Quindi effettivamente si andrà a rompere Questa bull flag O meglio si andrà ad effettuare questa bull flag C'è stato il movimento Tac, tac, tac A un certo punto romperà Tac Ed ecco così che si va a creare la nostra bull flag Che però deve lavorare poi su quest'area Quindi combatteremo su quest'area Se si romperà Si andrà to the moon Nel senso che si andrà probabilmente Verso il target che ho designato io Che è qua sopra Nice Cioè quello tra gli 80 e i 90k Questo è tutto il mio costrutto Tutto quello che ho in mente io su bitcoin Attualmente Ed attualmente si sta effettivamente verificando Ah per chi mi chiedesse dove stiamo operando Siamo attualmente su BingX Uno degli exchange che utilizzo per operare C'è tra l'altro una promo Termina fra 24 giorni Ti lascio il link qua sotto Una promo che dà diritto fino a 3950 dollari di bonus Più 13600 hamster A seconda delle task che si vanno a svolgere Esempio Verifica che OSI Quindi ti registri Fai il che OSI Ti danno 100 dollari di trading bonus Utilizzabili per avviare un trading Che verrà compensato nel caso di perita Da questo bonus qui Nel caso di vincita i profitti sono tuoi Poi depositi almeno 100 dollari Ti danno 50 di bonus Fai un volume di trading di X Ti danno 100, 100 e così via Quindi si va poi a comporre A seconda di come ti muovi Fino al raggiungimento di un bonus totale 3950 dollarozzi Che male non fanno Torniamo sul nostro grafico Io direi che non c'è nient'altro da aggiungere In questo contesto Vediamo come si evolve Certo è che bisogna anche andare a inserire qua dentro Che cosa? La situazione geopolitica Perché anche quella è particolare E anche quella ha un suo peso Situazione geopolitica Ragazzi sappiamo benissimo com'è Ci sono ancora i famosi estremisti religiosi Che stanno lì a raccontarsela Sparano bombe a vicenda Io non entro nel merito Però comunque sia Questa tensione è inevitabilmente scontata sui mercati E' vero che siamo sotto lezioni E' vero che io personalmente Non mi aspetto chissà quale crash A meno che non ci sia veramente un escalation importante Sul lato diciamo bellico Però tendenzialmente non mi aspetto chissà quale cosa Se non le bombe che ci si manda di rimando Senza cercare di distruggere veramente cose Cioè sono delle bombe buttate un po' a muzzo Per dirgli a guarda che io sono forte Se voglio ti distruggo L'altro risponde Ok ti mando io le bombe Anche io sono forte Se voglio ti distruggo E vanno avanti così un po' di rimbalzo Non vanno a colpire Cioè se volessero colpire centri abitati Fare veramente danni Si lo farebbero Cioè questo è palese Quindi per ora è ancora tutto un po' così Anche se è comunque una situazione brutta Però è così Lato Stati Uniti Disoccupazione mi sembrava abbastanza interessante I dati non sono così tragici Sappiamo che si va verso una recessione Però per ora è comunque un'economia ancora forte Diciamo in situazione base Senza troppi casini Probabilmente quello che vedremo È proprio quello che ci siamo detti Cioè questo recupero Ora non lascio perdere quest'area qui Recupero così Tac E poi si va a salire Questa è una situazione normale Tranquilla In cui si va sotto lezioni Ci sono un po' il mercato che si muove Magari qualche altro taglio tattico Degli interessi Qualche dato qua e là Però questo è potenzialmente Ciò che mi aspetto Nel caso appunto abbiamo detto Di escalation invece E qui sappiamo benissimo Che sparano una bomba Dove non devono sparare E questo fa così sicuro Per forza Perché funziona così purtroppo Poiché si riprenda Tende a riprendersi Lì è un altro paio di maniche Però tendenzialmente Questo è quello che succederebbe Sui mercati Con un evento di questo tipo Tenendo conto di una cosa Molto importante Che da uno dei due lati Che si stanno scontrando Ci sono delle forze Che obiettivamente Posseggono l'economia mondiale Ed è poi la parte per cui parteggia Il mondo civilizzato Il mondo che noi vediamo I telegiornali Patteggiano sempre per quella parte lì Ovviamente Sono sempre dalla loro parte Posseggono realmente Gran parte dell'economia statunitense Posseggono gran parte Dell'economia mondiale Quindi stiamo parlando di Un elite Al top Dell'economia Di conseguenza Un conflitto con loro Un conflitto in questo momento Che potrebbe coinvolgere Anche altre aree Per forza di cose Perché sono veramente Al top Ai vertici Di ogni singola Azienda Grossa O qualsiasi ramo Economico Bancario Qualsiasi cosa Veramente Ci troveremmo In una situazione Come ho detto Di questo tipo Cioè Tante patrie coinvolte Quindi non solo Le due forze Che si stanno sfidando E tutta una serie di problematiche Che diciamo Non sono il massimo Quindi al netto di Escalation particolari Questo è lo scenario Più probabile Cosa importante Vorrei rispondere Ad una domanda Che mi viene fatta In questo periodo Cioè Io ho dei bitcoin Ho accumulato Dei bitcoin Che cosa devo farci In questa fase Sono in profitto Perché nel tempo Ho accumulato Ad un buon prezzo medio Che cosa devo fare Con questi bitcoin Devo venderli Devo vendere una quota Per ricomprare più basso Devo vendere solo il profitto Che ho generato In questo modo Mantengo comunque Un piede nel mercato Esco totalmente Oppure Tengo lì E aspetto Insomma Come mi devo comportare Allora Rispondere a questa domanda È sempre difficile Per un esterno Ma che sia io Che sia chiunque altro È sempre difficile Perché Perché Dobbiamo considerare Che gli investimenti Sono un qualcosa Di personale Cioè È un rapporto Tra noi E gli asset Su cui stiamo investendo Nice Conoscere Dove si sta investendo Diventa fondamentale Non solo per investire Ma per sapere anche Quando uscire dal mercato E quando si esce Dal mercato Su bitcoin Beh La risposta è dipende E da che cosa Dipende dalla propria Strategia Ancora una volta Esempio Ti posso dire Come mi sto muovendo io Poi tu valuta In base al tuo portafoglio Ti do giusto Qualche input In modo che tu puoi Possa fare Le tue analisi Da te Inutile che ti dica io Che cosa fare A parte che non posso dirlo Non posso dirti cosa fare Perché non sono Un consulente finanziario Però sarebbe anche Fossi un consulente finanziario Una cazzata Secondo me Perché ognuno dovrebbe Vedere Per sé I propri investimenti Sì avere qualche suggerimento Però poi il percorso Individuale È tuo Cioè sono i tuoi soldi Sono le tue cose Devi vedere A tele tu Detto ciò Io che cosa sto facendo Io ho su bitcoin Un portafoglio long term Quindi un holding Che non vendo E dall'altra parte Un portafoglio Più short term Che invece Utilizzo per speculare Sul prezzo Con quale obiettivo Con l'obiettivo Di accumulare liquidità Quindi guadagnare Da bitcoin Per coprire Le potenziali perdite A cui mi Espongo Col portafoglio Long term E contemporaneamente Avere la liquidità Per ricomprare A prezzi più bassi Quando è il momento Il mio portafoglio Long term È un portafoglio Con una quantità Di bitcoin Che ho deciso A priori In base a cosa? In base all'analisi Che ho fatto su bitcoin Esempio Pensi che bitcoin Possa arrivare A un milione? Perfetto Allora se per te Bitcoin può arrivare Ad un milione Facciamolo Secondo te Bitcoin arriverà A un milione Potenzialmente Avere in portafoglio 0,1 BTC È già Un buon colpo Significa avere In portafoglio 100k Di valore In BTC Quindi se vediamo Proprio lato Solo investimento Investimento puro Qual è il prezzo Medio d'acquisto Di questo bitcoin? Facciamo finta 50k A 100k Di valore In portafoglio Cioè quando Bitcoin raggiungerà Un milione Il tuo portafoglio Varrà 100k Qui c'è un per due Sei contento? Sì Significa passare Per 10 anni 20 anni Dove Delle volte Sarà più basso Di 50k Delle volte più alto Ma poi sul lungo termine Tenderà a crescere Va bene per te Cioè questo è lo scenario Che tu hai in testa Sì Ok allora Tieni quella quantità Consapevole di che cosa? Consapevole di ciò Che stai rischiando Perché questo è l'importante Cioè tu devi avere in mente Non tanto quanto guadagnerai In prima battuta Ma quanto rischierai Per raggiungere quel guadagno Cioè se tu vuoi far crescere Il tuo portafoglio Abbiamo detto A 100k Ok Ma qual è la tua soglia di rischio? Esempio Tu guadagni 1200 euro Al mese Che significa Per 10 mesi 12k Ora Ipotizzando che tu abbia Comprato Bitcoin Con una media Di 20k Un anno e mezzo Quasi due anni Per accumulare Questa quantità Di bitcoin Perché? Perché hai anche Dei soldi da parte Tu sai che Stai rischiando Questo E se anche Perdessi questa cifra Non ti importa Perché sai che Comunque Quello che ti entra Bene o male In due anni Ricopri Questo investimento Che si è rivelato Ipotizziamo Cattivo Quindi hai perso E che cavolo Non sei contento Quindi questa è la tua Soglia di rischio? Sì È una soglia di rischio Tale per cui Ti fa stare tranquillo Cioè ti fa dormire la notte? Il fatto che hai 20k In gioco Ti fa dormire la notte? Il fatto che questi 20k Possono andare a zero Ti fa dormire la notte? Se la risposta è Sì Allora Questa è la quantità di bitcoin Che dovresti avere in portafoglio Se qua ne avessi 25 E quei 5 in più Cazzo ti stanno qui Non Ma che cavolo È troppo? Allora riduci Finché non trovi una quota Tale per cui Tu possa dormire Sonni tranquilli E sapere Che stai Rischiando Questo Con l'obiettivo Di raggiungere Per esempio Questo Quindi se per te Questo è fattibile Perché hai prima studiato L'asset Come funziona E tutto È un target Secondo te È fattibile Hai Una gestione Del rischio In piedi Allora Perfetto Questa è la quantità di denaro Che puoi tenere In holding In holding su bitcoin In holding su bitcoin Questo è il ragionamento Che ho fatto io Io ho Tot bitcoin Che sono disposto A rischiare Perché ho comprato Con un prezzo medio Relativamente basso Credo che bitcoin Nel lungo termine Vada a crescere Se cresce Ho fatto bingo Se non cresce Ho perso Una quantità di denaro Che sono disposto A perdere Esempio 30.000 euro Oppure Perché ha cifre minori 1.000 euro 2.000 euro 3.000 euro Cioè bisogna trovare Una cifra Con cui ci si sente A proprio agio Nel caso di scenario negativo Cioè gli investimenti Sono prima di tutto Una preparazione Per lo scenario negativo Cioè io devo essere Protetto E pronto alla battaglia Pronto al sangue Nelle strade Nel momento in cui Poi non ci arriviamo Perdiamo fiducia In quell'asset E nel lungo termine Ci troviamo Andare in perdita Magari E quindi chiudere Le posizioni Incassando perdita Perché abbiamo fatto male I conti in tasca Quindi prima di tutto Bisogna impostarsi Un grado di rischio Per l'holding Tutto il resto Con cui vogliamo speculare Quando il prezzo sale Scende Quindi giocarci Lo mettiamo da parte Consapevoli di quanto Stiamo rischiando Cioè se io ho 0.1 BTC Fai finta 10.000 euro Che sto giocando Sto rischiando Su bitcoin Long term E un altro 0.1 Voglio giocarci Per poter accumulare Più ricchezza Più bitcoin Quello che vogliamo Coprirmi nel caso In cui quello 0.1 Crollasse C'è qualsiasi cosa Idem Ancora una volta Devo avere un'idea Ben chiara Di quanto sto rischiando Allora Valutiamo bene Come comportarci Il motivo Per cui uno Dovrebbe vendere Degli asset È perché O ha bisogno Di liquidità O ha trovato Degli asset Più interessanti Su cui esporsi E quindi vende Una parte di quelli Che ha Per andare a ricomprare Quelli Oppure non c'è Un motivo in realtà Quindi o hai bisogno Di liquidità O hai bisogno Di spostare Quella liquidità Verso un altro asset Questo è Questi sono i motivi Che dovrebbero spingerti A vendere Se ti stai posizionando Long term Perché se ti stai posizionando Short term Lì è tutto un altro paio di maniche Cioè se il tuo obiettivo è speculare Allora sì Cercherai di speculare In un certo lasso di tempo Cercando di comprare al prezzo più basso Vendere al prezzo più alto Che sappiamo che non si può fare Però ti posizionerai In un altro modo Cercherai di sfruttare I cicli Per capire Come Dove Quando Posizionarti Però lì Ripeto un altro sport Ancora una volta Devi fare le tue analisi Capire da te Che cosa Vuoi fare Che cosa Puoi fare In base al tuo portafoglio In base alla tua gestione Del rischio In base al tuo studio Degli asset Su cui ti stai posizionando E poi ti posizioni sul mercato Qualsiasi altra domanda Scrivila qua sotto Nei commenti Sarò felicissimo Di rispondere Iscritti al canale Se ti fa piacere Rimanere sempre sul pezzo Sui mercati Capire come affrontarli Capire come investire Dovrebbe comparirti qua Un tasto Iscriviti Clicchi lì E ti puoi iscrivere Ti ringrazio per se è stato Qui con me Ti ricordo ti lascio anche Il link di BingX Con la promo Che è valida Fino alla fine di ottobre Te la lascio qua sotto Ci sono un po' di bonus Utilizzabili Che male non fanno Ti ringrazio ancora Per se è stato qui con me Un abbraccio E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao